10.000 le tonnellate di rifiuti che arriveranno da San Marino e che verranno smaltite dall'inceneritore di Raibano a Coriano. Frutto dell'accordo tra governo sanmarinese e giunta regionale a Bologna, tale decisione ha già infiammato la polemica. Punta il dito contro l'amministrazione Spinelli, il PD all'opposizione, secondo il quale sono state prese decisioni senza informare nessuno e per questo verrà presentata una interrogazione. L'assessore all'ambiente del comune di Coriano Michele Morri ha dichiarato che i rifiuti provenienti dal Titano sono migliori, più controllati e si sa da dove arrivano a differenza di altri. Nello specifico hanno caratteristiche merceologiche meno impattanti e andranno a sostituire ben 40.000 tonnellate di rifiuti speciali che finora sono arrivate da tutta Italia, magari anche dalla terra dei fuochi. Il limite massimo consentito di smaltimento della spazzatura all'impianto di Raibano rimarrà lo stesso, ossia 140.000 tonnellate annue. L'alternativa? Costruire un nuovo inceneritore a San Marino. Intanto una delegazione del comune di Coriano è corsa in regione per ridiscutere il piano regionale dei rifiuti approvato l'8 gennaio scorso. Al centro del dibattito l'aggiornamento del protocollo del 2011 in scadenza il prossimo novembre. L'inserimento dei rifiuti nell'inceneritore di Raibano era già previsto in un accordo quadro della regione Emilia Romagna a Giunta Errani con l'amministrazione di San Marino. Quindi nulla di nuovo, al di là di quello che si pensi dell'inceneritore giusto o sbagliato, i rifiuti rientreranno nel quantitativo già autorizzato dalla provincia di Rimini.